Finalmente conosciamo i nuovi titoli disponibili per l'abbonamento PlayStation Essential di ottobre 2024. I nuovi giochi inclusi nel livello più basso dell'abbonamento saranno disponibili dal primo ottobre. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! WWE 2K24 celebra i 40 anni di Wrestlemania e lo fa con un set di superstari iconiche che se le danno di santa ragione. Le leggende del wrestling Stone Cold Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant si uniscono ai più giovani di American Nightmare Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns per dare origini ad una serie di scontri indimenticabili. Per saperne di più vi consigliamo di recuperare la nostra recensione, trovate il link in descrizione. Il remake del classico survival horror fantascientifico arriva su PS Plus insieme ai temibili necromorfi. Protagonista del videogioco è Isaac Clarke, ingegnere che approda sulla nave spaziale minerale USG di Shimura per effettuare delle riparazioni, ma qualcosa è andato decisamente storto. La nave è in stato di abbandono, ci sono cadaveri ovunque e Nicole, la compagna di Isaac, è dispersa da qualche parte a bordo. Inizierete così la vostra battaglia per la sopravvivenza contro i necromorfi, orrende creature aliene dello spirito omicida, ma anche contro la vostra sanità mentale. Ultima aggiunta del catalogo Essencial è l'esperienza horror psicologica di Doki Doki Literature Club Plus. La protagonista del gioco, mossa dalla ricerca e di un interesse romantico, frequenta il club della letteratura, ma ciò non farà altro che far uscire allo scoperto gli orrori scolastici che si cielano tra le ragazze carine e graziose presenti. Il gioco è una visual novel, non adatta ad un pubblico facilmente impressionabili, ma potrebbe rivelarsi molto interessante per i suoi colpi di scena inaspettati. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto fateci sapere nei commenti se giocherete a uno di questi titoli dell'abbonamento. Un saluto e alla prossima!